Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo tutorial lunghe. Oggi vi mostrerò come realizzare una divertente e semplice manicure utilizzando lo smalto Duplicity della linea Transitions di China Glaze. La particolarità di questa linea di smalti è che cambiano colore a contatto con il top coat e permettono quindi di realizzare con semplicità un sacco di divertenti design. Per realizzare la nostra manicure ci serviranno una base protettiva, uno smalto per nail art color argento, lo smalto Duplicity della linea Transitions di China Glaze e un top coat brillante. Come sempre iniziamo stendendo una mano di base protettiva per proteggere le nostre unghie. Ora applichiamo su tutte le unghie una mano di Duplicity della linea Transitions di China Glaze. Lasciamo asciugare perfettamente lo smalto e procediamo applicando solo sulla parte alta dell'unghia il top coat, in modo da creare due zone nette e separate. Come vedete nella parte alta dell'unghia lo smalto Duplicity ha iniziato a cambiare colore grazie alla copertura di top coat. Ed ecco il risultato una volta terminato di applicare il top coat. Per rifinire ed impreziosire ulteriormente la nostra manicure utilizziamo lo smalto per nail art argento e tracciamo una linea sottile nel punto di contatto tra le due tonalità. Ed ecco la nostra manicure finita. Anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, io sono Giuliana. Finalmente è arrivata la primavera. Così ho pensato di creare insieme a voi una divertente e colorata ghirlanda primaverile da appendere fuori dalla vostra porta, proprio come questa.